Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è interamente dedicata al mondo del fitness. Nei giorni scorsi infatti a Cameri si è svolta un'importante masterclass con la nota presenter Beba Silvera Ramos. Hai organizzato questa masterclass con Beba Silvera Ramos? Sì, in occasione del raduno ogni anno noi ne facciamo uno o due, il raduno di Bale Brucia dove noi insegnanti e chi magari vuole diventarlo facciamo tutta una giornata dedicata agli aggiornamenti, al ripasso degli stili che abbiamo fatto e quindi in questa occasione abbiamo voluto organizzare giustamente anche una masterclass con la presenza di Beba. Che cosa abbiamo visto in questa oretta dove avete bruciato ben 600 calorie? Sì, abbiamo sudato abbastanza direi, abbiamo visto un po' degli stili sia nuovi che vecchi tra virgolette quindi i classici salsa, merenghe, ma anche il bugalo, l'afro, quindi tanti stili in una sola ora di lezione quindi molto divertente e logicamente insomma anche il modo per ritrovarsi dopo tanto tempo che abbiamo passato tra Covid e conseguenze varie. Benissimo, ciao io sono Beba, vengo dal Venezuela e ho fatto adesso una masterclass di Balla e Brucia Balla e Brucia è una disciplina di danza, brucia calorie dove si impara a ballare, si rasoda, si dimagrisce si bruciano attorno a 600-900 calorie a un'ora di lezione e è molto divertente non pre-coreografato e soprattutto si ballano tanti stili, oltre 76 stili diversi. Tra l'altro è proprio un tuo marchio, un tuo brevetto? Sì, sì, è il mio brand, è registrato dieci anni fa e niente, è partito così come un esperimento e mi è diventata la vita, tutto. Come mai hai diciamo brevettato questo stile di danza? Allora, praticamente sono stata sempre una ballerina da quando avevo 4 anni, quando sono uscita incinta ho avuto la bambina piccolissima, bellissima, preziosa e mi sono rimasta 28 kg e mezzo Allora ho detto, va, c'è un qualcosa qua che non va. Facevo fatica a respirare e veramente non riuscivo a vivere con tanto peso perché l'ho preso anche velocemente, quasi tutti i kg nell'ultimo trimestre della gravidanza. Allora ho iniziato a mettere insieme le stili di danza che sapevo fare e ho creato questo metodo è un metodo praticamente, nel quale divertendoti mentre fai cardio, rassodi, mentre ti alleni e senti tutta la muscolatura che si allena, dopo che la musica divertente non ti accorgi e ho iniziato a perdere peso velocemente. Allora ho capito che funzionava e ho iniziato a offrire questo prodotto nelle scuole di danza e nelle palestre in Italia. Tu da quanto tempo sei in Italia? Sono 12 anni che sono qua, da quando ho partorito mia figlia. Sono arrivata qua, boom! E niente, dopo mi sono portata a Valle Brucia dietro da 10 anni. In effetti hai iniziato diciamo in sordina, con un metodo straordinario visto i risultati e sei arrivata fino a lavorare in tv. Sì, sì, sono stata chiamata, per me è stato un onore perché non sono andata a offrire il prodotto ci avevo pensato andare in tv però ballando 76 stili diversi non sapevo a cosa offrire. Allora, sempre con quella cosa di non sapere se sbagliare o no sono stata chiamata da Ballando con le stelle, da Mille Carlucci e mi hanno detto che mi avevano visto su YouTube, che a lei le aveva piaciuto tanto, che facevo tanti stili. mi ha chiamato per fare un casting, ho presentato quattro coreografie diverse, una con i tacchi, una tutta a Valle Brucia, una tutta mia, proprio di danza molto mista, ho presentato anche stili dal Venezuela e io ho fatto una dei twerking che mi è stata richiesta e quella dei twerking è finita in Ballando con le stelle tv nazionale. Sei stato anche un bel esempio per tutti. Si può effettivamente vedere il risultato perché l'abbiamo visto su di te? Io ho già una certa età, ho quasi 43 anni e veramente perdere peso, sentirsi più sodo, sentirsi più fiato è veramente una gioia perché ti dico sinceramente mi sento meglio adesso che quando avevo 20 anni, più allenata, più carica, più forte, anche se ho il doppio dell'età e mantenersi allenato e ovviamente mangiare anche sanamente è importante, avere tanta acqua, però l'allenamento aiuta tantissimo, veramente si imbecchia bene, ti senti bene. Grazie a te. Se volete vedere cosa facciamo basta cercare sui social ballebrucia o www.bevasilverarramos.com e c'è la pagina fans che grazie a voi è arrivata a un milione di followers e potete seguire dove carico tanti video di ballebrucia e di tutti gli stili di danza e pagina facebook Bevasilverarramos, instagram Bevasilverarramos, youtube Bevasilverarramos, tiktok Bevasilverarramos, www.ballebrucia.com e sempre bevasilverarramos.com Grazie a voi, ciao. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento sabato prossimo.